Una donna di 75 anni è morta questa mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 10 in via Sestese a Firenze. Secondo quanto emerso, la donna stava attraversando la strada all'altezza delle strisce pedonali quando è stata travolta da un'auto che procedeva in direzione Firenze. Vanno i tentativi di salvarla da parte dei sanitari del 118. La 75enne è deceduta sul posto per i gravi traumi riportati. Il conducente della vettura si è fermato subito dopo lo scontro. Sul posto la polizia municipale via Sestese è stata chiusa in ingresso a Firenze all'altezza dell'incrocio con via Crocetta per consentire i rilievi. Problemi anche a Novoli in via Forlanini a Firenze. Un'auto in fiamme in mezzo alla strada è successo questa mattina. Intorno a mezzogiorno l'auto era ferma in mezzo alla carreggiata all'altezza del semaforo accanto agli edifici che ospitano l'università.